14esimo appuntamento con 60 secondi oggi parleremo di un innovativo strumento elettronico cordless creato per iniettare filler di acido ialuronico dinamici di ultima generazione di massima qualità e bio rivitalizzanti la teosia al pen si tratta di un presidio tecnologico avanzato in grado di rendere questi tipi di trattamenti estetici più confortevoli con meno dolore più precisi con un minimo rischio di ecchimosi offrendo al medico specialista esperto la possibilità di esprimere al meglio la propria tecnica e la propria manualità il presidio medico teosia al pen non solo riduce il fastidio legato al trattamento ma migliora la distribuzione dell'acido ialuronico che risulterà più omogenea con ottimizzazione del risultato specialmente in zone delicate come le labbra ed il contorno degli occhi dove iniezioni molto precise ed omogenee sono fondamentali per un risultato naturale la teosia al pen ha un design ergonomico e leggero ed è dotata di due programmi e tre velocità diverse grazie ai quali si ha un facile controllo sulla pressione sulla velocità di infiltrazione